Noi sappiamo che le partite non sono facili, lo ripeto dall'inizio del campionato, quest'anno il campionato si è molto assoluto di livello, ogni partita è dura, l'abbiamo visto al primo tempo, però dopo certo tecnicamente la tecnica della squadra si è fatta vedere, proseguiamo per la nostra strada, i nostri obiettivi sono sempre quelli, anche i obiettivi sono sempre gli stessi, abbiamo letto l'inizio del campionato, noi vogliamo provare a lottare per l'Ale con la season fino alla fine, quindi la matematica non ci condanna e poi se Carton sarà più bravo e batteremo le mani, però fermo restando, in queste dieci partite incontriamo squadre valide, noi sappiamo la nostra forza e il nostro valore, quindi avanti a testa alta, sempre con il nome che portiamo dietro, perché sono cinque anni che facciamo la Lega e siamo stati sempre protagonisti, quindi continuiamo sempre, il nostro obiettivo è sempre lo stesso, arrivare alla fase finale, possibilmente senza fare i playoff.